Ok, voi che cosa fate? Io faccio il leone da circo e voglio scappare e tornare nella giungla Sì! E allora io faccio il domatore di leoni ma sono molto cattivo è per questo che tu vuoi scappare Sì! Io faccio l'acrobata e sono sposata con il domatore di leoni Sì! Aspetta, cosa? Io faccio il pubblico e questo è il popcorn E io faccio la presentatrice e dico a tutti cosa devono fare Sì, però... Io sono il pubblico quindi non puoi dirmi cosa devo fare Ah, già! Iniziamo! Sì! Aspetta, serve altro popcorn Oh, non di nuovo Hercules, posso fare io la motocicletta adesso? No, tu sei l'ostacolo Ma fare l'ostacolo è noioso Fai quello che ti dico o non giochi più, ok? Ok Pronta! Ok, signore e signori Benvenuti al circo Il nostro primo numero oggi sarà... Quale dovrebbe essere il primo numero? Io ho un'idea Ok, dillo tu Il primo numero sarà un leone che salta in questo anello Salta, salterino, leone Prendi la tua ricompensa No, tu sei un domatore cattivo, ricordi? Ah, già, dimenticavo Salta, leone pigrone! Marito, sei gentile con il tuo leone Io non sono tuo marito Tadà! Sì! Niente ricompensa Lui, Mekenzie non vuole essere mio marito, però Mekenzie, fai finta di essere il marito di Coco, per favore Ma no, non mi va Spiacente, Coco, a lui non va... Scusa, non puoi costringerlo? Ehm, no! Già, se a lui non va di farlo, non può costringerlo Ok